A meno di un mese dal via all'anno scolastico 2023-2024, fissato per il 13 settembre, Pesaro si prepara ad una stagione di tanti cantieri relativi all'edilizia scolastica che mettono assieme oltre 20 milioni di euro di investimenti fra efficientamenti energetici, nuove edificazioni, demolizioni e ricostruzioni. Rientra in quest'ultima categoria il nascente polo dell'infanzia di via Rigoni, dove sta per avviarsi la demolizione della scuola dell'infanzia Scarabocchio di Soria per una nuova struttura che prevede un nido per 30 bambini e una scuola dell'infanzia con 5 sezioni da 25 bambini ciascuna. Si tratta della prima messa a terra di un investimento con fondi PNRR sull'edilizia scolastica pesarese. Quasi 4 milioni di euro di lavori per un'opera che dovrebbe concludersi a inizio 2025. Nel frattempo a settembre gli allunni della Scarabocchio saranno trasferiti in Viale Trieste assieme a quelli della primaria Mascarucci e della media Dante Alighieri che già da un anno è nei locali di Pesaro Studi. Già perché la Dante in via Gattoni è uno degli altri istituti chiamati a demolizione e ricostruzione che con i suoi 6 milioni e mezzo rappresenta l'investimento più oneroso del comune. Altra demolizione e ricostruzione prevista è quella della scuola Anna Frank di Santa Maria delle Fabrecce, anch'essa finanziata da fondi PNRR per 3 milioni e 6 da completare entro marzo 2026, periodo in cui gli allunni saranno trasferiti al centro civico di Vismara. Entro metà settembre sarà affidato invece il cantiere per la radicale riqualificazione della scuola media Manzoni con 5 milioni e mezzo di intervento per trasformarla in edificio Enzeb all'avanguardia dal punto di vista energetico per un efficientamento completato alla vicina Don Bosco e alla scuola di via Fermi a Monte Granaro. Fra le nuove edificazioni si lavora anche per la palestra dell'Istituto Livieri in via la Marmora a Pantano e per la nuova mensa scolastica all'Istituto Pirandello.